La ciclovia adriatica che naturalmente ha interessato tre città, Fano, Marotta e Senigallia, è stata una prima vera occasione per fare un processo di rilettura di un territorio, di un vasto spazio. È chiaro che oggi ci andiamo a focalizzare su quello che è il terzo stralcio, che va dall'hotel Playa sino al fiume Metauro. Un tragitto, diciamo, un percorso che inizialmente voleva essere realizzato tutto in prossimità del mare, e poi per evidenti fattori di problematiche legate all'erosione della costa, si è rientrati sulla zona monte, lasciando un piccolo segmento che va dall'hotel Playa al casolare ripresente solo sul lungomare per poi accedere al lato monte con la realizzazione di un nuovo sottopasso. Un percorso di mobilità sostenibile che non solo ha una caratteristica di tipo turistico, ma in questo caso è di servizio anche al quartiere, perché va a spostare quello che è tutto il flusso dei pedoni, ma anche delle biciclette, dalla statale, dove appunto c'è un evidente pericolo di transito, invece sul lato ferrovia e quindi la mette in sicurezza. Un percorso blu perché di conseguenza mette in sicurezza anche tutto quello che è l'aspetto idrico. Quindi essendo un territorio fortemente colpito da alluvioni, così facendo si lavorerà sulla rigenerazione un po' dei vecchi fossi, ma anche sulla nuova realizzazione di vasche di prima pioggia. In questo momento sono già partite le lettere degli espropri, tra due mesi dovremo approvare la variante, quindi portando un documento sia in giunta che in consiglio comunale. Successivamente potranno pervenire quindi da parte dei residenti cittadini tutte le osservazioni, procederemo con le contradduzioni, fino a quando riusciremo finalmente ad adottarla la variante e ad approvarla. A quel punto potremo lavorare tutto quello, fare l'inter di tutta quella che è la progettazione del preliminare, il definitivo e l'esecutivo. E quindi riuscire poi ad attingere e a partecipare a qualche bando ministeriale per attingere a queste importantissime risorse. Un percorso per il quale ci ha lavorato davvero chi mi ha preceduta, Fabiola Tonella, assieme all'architetto Paola Stolfa, con un lavoro straordinario da parte dell'architetto Pia Miccoli e anche un presidio puntuale dal 2016 della FIAB, che non ha mai smesso proprio di perseguire la costruzione di questo importante progetto. La società che se ne è occupato, che è il fare, è una società che ha lavorato su un progetto non solo di carattere di mobilità, ma proprio di carattere architettonico, proprio perché è andata a valorizzare tutti quelli che sono tratti identitari di questo spazio. E non solo, ricreando anche proprio delle aree di sosta e di benessere. Così deve essere.